ciao ciao amici benvenuti o bentornati qua sul mio canale sono il carletto e sono qui nel mio angolo delle recensioni continuiamo quest'oggi le recensioni ne farò un pochettino e poi vediamo come le montiamo di qua di là se mettere prima questo prima quelle di altre figure che ho fatto comunque continuiamo le recensioni riguardante jojo vedete qua c'è il mio stand lo stand odate che mi accompagna nelle mie recensioni sempre a proteggermi perché questo è il mio stand e che dire andiamo a vedere un po di figure poi dopo ci fermeremo per un po poi dopo magari faremo gli altri personaggi andiamo a vedere questa linea qua della medico toys vedete che la super action statue che sta buttando fuori veramente tutte le figure dei personaggi di jojo sono veramente ben dettagliate fatte veramente bene e che dire partiamo dal cattivone per eccellenza che dio 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 eccolo qua guardate veramente un sacco di accessori poi vedremo il suo stand the world e quindi partiamo dal male supremo per poi andare al bene supremo vedremo giotaro con il suo star platinum sempre di questa linea qua e quindi dai andiamo a boxare dio vediamo come l'han fatto perché è fatto veramente bene dettagliato e con un sacco di accessori dai vediamolo bene 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 partiamo col vedere allora che all'interno abbiamo un libretto illustrativo e guardate ci spiega tutti i punti di articolazione della figure fatto veramente bene poi cosa troviamo troviamo la sua basetta che in queste figure è sempre così ovale con questa barretta bianca e troviamo un segnale stradale vedete e i pugnali i pugnali andiamo a vedere bene 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 la figure allora troviamo alcune mani veramente così carine con i pugnali da lancio vedete li hanno già inseriti all'interno della mano ne troviamo esattamente adesso le faccio vedere così due sinistra e destra poi troviamo le varie mani aperte chiuse quella che indica quella che tiene il pugnale singolo e troviamo due volte adesso mi faccio vedere prima i due volti aggiuntivi perché anche se piccoli ragazzi guardate sono fatti veramente bene lui è il male per eccellenza guardate questo sorriso diabolico guardate fatto veramente è piccolino ma è fatto veramente bene questa linea non è niente male guardate qua veramente sono definiti bene sono fatti veramente bene mi faccio vedere anche la figura che presenta veramente guardate tantissimi snodi guardate qua come ha fatto bene la parte anche del vestito partiamo vedere l'altra faccia allora allora la parte qua del collo vedete c'è ancora una plastichina guardate dettaglio dei volti eccezionali sfumature vedete del colore qua eccezionale a me non piacciono tanto lo dico sempre nella mia recensione gli snodi allora vedete questo è un po modo articolato per muovere il braccio un po ostiato fa un po fatica dobbiamo girare dalla parte così per muovere verso l'altro tipo dopo li metteremo magari in posa quando gira quando lui lancia i pugnali tentiamo di fare qualcosina però vedete al modo di snodo così va piegato occhio perché un po delicato dobbiamo girarlo in su così e poi possiamo fargli la posizione un po forse per rifarli queste spalline qui hanno sono andati a perdere un po secondo me di di possibilità di movimenti vedete perché qua c'è la plastica delle spalline che va a picchiare più di così non possono alzare dobbiamo fare questo movimento qua girare il braccio comunque ci stava bene vedete gli snodi faccio vedere gli snodi all'interno anche qua sono un po evidenti io li avrei coperti ancora un pelino in più perché sapete che io non apprezzo tantissimo gli snodi vedete si vede un pelino anche questo nella parte bassa qua vedete sulla pancia però tutto sommato la figo è bella allora vediamola per intero guardate che carina vediamo prima la parte alta qua poi andiamo nella parte bassa dove hanno curato tutto queste qua per darci la possibilità di muovere le gambe le possiamo alzare abbassare sono sfumate guardate anche la parte delle ginocchiere che hanno messo sul simbolo del cuoricino fatto veramente bene che almeno copre un pelino lo snodo però me questi snodi quando sono così evidenti non mi piacciono granché guardate la sua scarpetta sembra così la scarpetta da circo però è poco divertente perché lui era diabolico era il più diabolico di tutti allora questa è la parte davanti adesso vi faccio vedere anche la parte dietro dove a questo buco dove andiamo a inserire quella basetta bianca per tenerlo in volo eccolo qua amici ho fatto questa versione tipo al mondo e mio tipo proprio malvagio così ma adesso gli fa per farvi vedere che ha un po di difficoltà nella posabilità perché perché i piedini sono veramente sottili bisogna perderci un pochettino di tempo però poi riusciamo a farlo stare su anche senza basetta diciamo così però è un po noioso un po noioso perché vedete veramente sono sottilissimi dobbiamo trovare un punto di equilibrio buono per farlo rimanere in piedi però rimane in piedi vedete però se muoviamo un po troppo esternamente le gambe si vedono i giunti che cavolo stis nodi un po così troppo evidenti queste palline un po così troppo evidenti a me non fanno impazzire però sicuramente come action figure queste della medicos toys le sas sono le più carine quello sicuramente dai proviamo a fargli una posizione di lancio di coltelli eccolo qua ragazzi dovuto rivoluzionare completamente la posizione per simulargli il lancio dei coltelli senza l'ausilio della sua base tina perché veramente guardate come dovuto mettere i piedi complicatissimo riuscire a fare stare in posizione dio senza basetta perché a questi piedi sottilissimi però se ci mettiamo con cura piano piano bene o male la posizione la riusciamo a creare poi ho messo il braccio in avanti che sta lanciando i coltelli e l'altro che va verso dietro gli ho cambiato la testa gli ho messo l'espressione col ghigno diabolico però giusto per farvi vedere che anche se con difficoltà anche lui che forse uno dei più difficili da far rimanere in equilibrio specialmente in una posizione diciamo così dinamica lo si riesce a fare rimanere comunque in piedi è veramente bello peccato queste sas che lo dico sempre hanno questo problema degli snodi troppo evidente l'unica cosa che io posso dire di queste figure perché per il resto secondo me sono veramente carine amici prima di concludere però era giusto perché ci mettono queste basette qua allora vi volevo far vedere in vetrina possiamo tenere anche così scontro contro giotaro in volo ho fatto un po sta pazzia qua gli ho messo i coltelli da una parte il segnale stradale dall'altro giusto perché sapete quando mi piace fare le recensioni poi dopo vi voglio far vedere tutto e guardate veramente non sta male non sta male carinissimo metterla così in volo si può fare una bella scena di scontro aereo contro giotaro guardate fatta veramente bene con dietro anche gli stand poi magari un giorno in vetrina vi farò vedere come le metto con magari loro che si scontrano in volo con dietro gli stand che combattono comunque possiamo fare una cosa veramente carina da era giusto che vi faccio vedere anche l'utilizzo della basetta e l'utilizzo anche del segnale prima di stradale prima di andare a concludere adesso siamo arrivati al momento giusto allora per andare a concludere giunge al termine la recensione anche di questo dio dalla mitica serie di jojos le bizzarre avventure allora che dire poca purtroppo posabilità senza la sua base tina perché i piedini sono veramente talmente piccoli che facciamo difficoltà a metterlo in posa però come potete vedere con un po di attenzione calma e perdendoci un po di tempo riusciamo comunque a farlo stare su anche senza la basetta perché io le basette non le adoro e quindi diciamo che comunque sia questa cosa di riuscirlo a fare stare bene o male anche senza la basetta va bene lui è promosso perché non è che troviamo tante figure di jojo all'infuori di qualche figure statica non è male colorato bene un po solo troppo evidenti gli snodi però va premiata medicos perché sta facendo veramente un sacco di figure le sas le troviamo praticamente ormai di quasi tutti i personaggi di jojo di tutte le serie quindi vanno bene sono dettagliate bene sono fatte bene salgono un po troppo di prezzo io queste qua le prenderei un prezzo basso perché comunque sia è sempre una action figure piccolina anche se è fatta bene saluto dal carletto se non l'avete fatta ancora iscrivetevi iscrivetevi al canale attivate la campanellina per seguirmi sempre e soprattutto veramente iscrivetevi al canale un saluto anche qua che mi stava scappando cosa che diceva è che non si può scontrare in questa battaglia contro dire perché dio al suo stand a riposo che vedremo adesso tra un po quindi andiamo a vedere lo stand cattivo cattissimo che afferma anche il tempo ragazzi andiamo a vedere lo stand di gioccio di che di gioccio di dios di dios di dios di dios alla prossima recensione un saluto occhio che vi partono i coltelli